Amici investitori buongiorno sono Dario Sicuro e anche oggi siamo su Torre Saracena in una zona interessante sia per uso e investimento sia per acquistare le case per voi e la vostra famiglia per trascorrere delle splendide vacanze qui in Salento Torre Saracena è a circa 2,5 km dalla splendida spiaggia di Torre dell'Orso a poco meno di 2 km da Torre Sant'Andrea con i suoi faraglioni e a poco meno di 5 km dalla splendida spiaggia degli Alimini quindi una posizione ottima centralissima per avere un immobile ripeto sia uso e investimento sia per le vostre vacanze adesso seguitemi e vi faccio vedere questa casa con accesso indipendente giardino al piano terra e la casa è posta al piano primo luminosissima ed è un trilocale la casa si trova in una zona tranquilla dove ci sono altre abitazioni di recente costruzione con ampi parcheggi di fronte alle abitazioni si accede in casa da un giardino privato e questa è una cosa fantastica perché nel momento in cui si acquista una casa al mare la cosa principale sono gli spazi esterni faccio una panoramica del giardino qui abbiamo anche un angolo doccia e questa è la visuale che abbiamo dal balcone che non è un semplice balcone ma è un ampio balcone dove si può tranquillamente pranzare e cenare è una casa unica su Torre Saracena anche perché è di recente costruzione degli ottimi infissi con vetrocamera delle persiane in legno entriamo all'interno salone vi faccio una panoramica qui abbiamo un angolo cottura e un balcone da questo balcone poi si arriverà anche nella seconda camera da letto adesso rientriamo quindi si accede da quell'ampia porta finestra salone con angolo cottura la prima camera da letto è una camera comoda per due letti inoltre in fase di costruzione il costruttore è riuscito a recuperare una nicchia dove entra tranquillamente un'armadia a muro bagno con box doccia seconda camera da letto vi faccio una panoramica di questa camera da letto e anche lì il costruttore dove siamo entrati nella camera è riuscito a creare una nicchia dove poter inserire un comoda armadio questa camera ha anche una porta finestra da dove si esce sul balcone e di qua si rientra in cucina amici investitori per oggi è tutto ricordatevi di mettere sempre un bel mi piace al video di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi investimenti qui in Salento ci vediamo al prossimo investimento qui in Salento ciao amici investitori